ciao a tutti oggi andiamo a vedere tre partite allora iniziamo con questa c'è un under 2 e mezzo partita di oggi 7 agosto poco fa è finita un under 2 e mezzo a 1 e 57 vincente una stella 80 per cento due stelle 79 per cento vincenti equilibrio equilibrio under buono che il fu cuoca ha una buona tradizione quindi con lo shonan e quindi la favorita da un punto di vista storico gioca fuori casa questo dovrebbe aiutare a rallentare vediamo si ha una buona tradizione ma è sfavorita quindi è perfetto perché in questa maniera rallenta ulteriormente l'incontro poi abbiamo una situazione non definita non molto ben definita ma come vedete abbiamo degli under ma non esagerati perché c'è un over e abbiamo dei non goal ma non esagerati perché c'è una situazione goal discorso simile qui con una squadra che in genere va bene ma appunto è la sfavorita e quindi è perfetto praticamente se andiamo a vedere la nostra favorita in realtà è il fu cuoca non quella che per il bookmaker è favorita cioè chi ha miglior andamento è questa pur avendo una quota molto alta 355 pur avendo il segno che sale guardate caso che poi comunque è riuscito a pareggiare sia pure a tempo nel recupero quindi a differenza dell'altra volta che c'era un eccesso di no goal e di under 1 e mezzo come vi ho spiegato ora mi confondo se credo che in realtà l'ho detto nel tucchiato io rispondo e non nel video comunque quando c'è una cosa esagerata dovete stare attenti se invece è così quindi è fortemente una direzione ma avete anche elementi contro quella direzione è meglio ok e sostanzialmente questa partita ha tutti elementi da under si poteva considerare ipotesi del no goal che comunque sarebbe stata vincente considerando che la prima rete è arrivata al 61esimo e il pareggio è arrivato al 94esimo secondo me ci poteva anche stare a colpo d'occhio il no goal e l'unico elemento che non andava a favore dell'under era questo il grafico che si allargava un pochino e ma era troppo poco si poteva anche considerare un banca x ma era troppo poco perché poi ecco se l'incontro finiva come è successo 1 a 1 oppure 0 a 0 non dovevamo meravigliarci quindi secondo me i due pronostici migliori erano l'under e il no goal poi andiamo a vedere un altro incontro anche qui c'è un under 2 e mezzo 68 per cento con una stella e poi c'era un pronostico lampo quindi non pronostico secondario che comunque rafforzava l'under però vediamo un po questo è più da over pure qui insomma giocare l'under qui è pericoloso qui ci abbiamo no goal e under questo incontro è pericoloso sia per l'under perché in realtà ci sono diversi elementi da over potevamo considerare il no goal ma come ho spiegato poco fa se io ho una serie iper eccessiva di situazioni in cui una squadra non mi subisce reti posso aver paura quindi se avete fatto l'under su questo incontro o anche il no goal ve la sede rischiata è finito 0 a 0 però mi piaceva molto più l'altro per i motivi che vi ho detto ok questo neanche 1 x perché questa squadra fa talmente tanti under che se mi segna questa per prima non è detto poi che riesca a ribaltare ok quindi questo non mi piaceva poi 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 abbiamo questo qui abbiamo tre pronostici o meglio due pronostici ufficiali erano nell'over due e mezzo e l'over uno e mezzo l'over due e mezzo all'altro molto convinto 87 per cento due stelle anche l'over uno e mezzo abbiamo situazione simile dall'altro guardate paradossalmente c'era più convinzione sull'over due e mezzo che sull'over uno e mezzo fighissima sta cosa e poi c'era anche un segno 1 che comunque mi rafforza l'over perché comunque il segno 1 per uscire significa che almeno una delle due squadre deve segnare fattore sorpresa bassa mentre c'era un fattore ribaltamento alto quindi questo poteva indicare che se segnava per prima la sfavorita magari poi vinceva la favorita perché il fattore sorpresa era bassa in realtà la favorita ha segnato subito ed è rimasta poi in territorio sul segno 1 insomma e andiamo a vedere se poteva starci lover qui sicuramente poteva starci qui no qui pericoloso qui sì anche buono che c'è un segno 1 forte come che che tra l'altro la favorita ed è anche una tradizione buona da parte della scuola di casa anche questo aiuta lover e poi qui situazione positiva quando perde perde con difficoltà però questa squadra qui non è malaccio ma che mi devo dire non è che un over che mi fa impazzire questo è che sono degli elementi da over poteva starci probabilmente era meglio un 11 x ma giocare un 1 con tre vittorie da parte degli ospiti non mi piace questi fanno anche molti no gole no non mi piace questo per due e mezzo comunque anche se il sistema era abbastanza convinto preferisco non farlo quindi ritorno al discorso quindi di queste tre partite solo una era particolarmente interessante questo per dirvi che dovete essere molto selettivi e il fatto che pronostico punti td a tantissimi pronostici vincenti che si basi sul metodo non significa che sia il metodo il metodo è proprio questo cioè lì ci sono tre pronostici a me ne piaceva uno dovete essere selettivi e ieri per esempio io oggi ancora devo guardare se ci sono incontri che mi piacciono oggi no oppure l'ho visto aspettate un attimo secondo me lo dico che forse mi confondo con ieri perché sto facendo i lavori a casa la mattina giochi operai che mi vanno via a pranzo e quindi c'ho poi tutto scombussolato no devo ancora vedere oggi si devo ancora vedere oggi se c'è qualcosa di buono per esempio ieri avevo provato a vedere non c'era nulla che mi piacesse particolarmente e quindi non ho giocato nulla quindi bisogna essere molto selettivi e evitate di fare il pensiero al cavolo prossimo punti ti ha dato il prossimo vincente perché io non ci ho pensato no chi comanda è sempre il vostro pronostico proprio nostro punti tipo rafforzare la vostra convinzione quindi anche se per esempio qui tre prossimi vincenti non si dovevano giocare tutte e tre ma eventualmente solo uno e comunque il nostro pronostico deve anticipare quello che fornisce il sistema del motivo per cui il pronostico ufficiale quello blu esce solo circa due ore prima dell'incontro perché c'è tutto il tempo per ragionare per inserire il vostro pronostico dentro pronostico.it poi quando uscirà quello del sistema se è presente un pronostico perché non tutte le partite sono pronosticate a quel punto se due pronostici quello vostro quello del sistema combaciano la probabilità di vincere è molto alta combaciano comunque sono in linea per esempio un under 2.5 un no goal in genere vanno insieme piuttosto che un 1 1 x per fare un esempio questo è tutto e ci vediamo presto presto. Пока!